Ciao a tutti 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 E' più veloce di tutti Più veloce di tutti ragazzi Ahhhh Errore E' lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene Recupera il pallone e il Sevilla raga Ricordo che ha segnato anche Leo Messi la scorsa partita Cosa stanno cercando di fare E' l'altro episodio ragazzi E' un bel gol In questo modo costringono gli avversari a stare passi L'altro l'inglese no William fuori De Jong vede Neymar Ci prova il volo Forse la tocca il portiere raga forse la toccata perchè il pallone è alzato E' infatti ha toccato il pallone è alzato in modo strano E' un po' di rairo 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 No, errore Peccato Finisce il primo tempo 1-1 tra Barcellona e Atletico Bilbao Il gol è di Sergi Roberto per il Barça Mentre per l'Atletico Bilbao bene in gare Inizia il secondo tempo, raga In avanti la palla Meno male, raga Raul Garcia si mangia il gol davanti la porta Meno male, raga Firpo Grande Firpo Stop pazzesco E la mette In gioco per Neymar 1-2 Firpo si intende bene con Neymar Fuorigioco per Bappe Millimetrico, forse No, non è millimetrico, raga, però Fuorigioco Bappe Alla per Messi Messi davanti la porta La pulga Lionel Messi 2-1 per il Barça Facciamo entrare Anzufati al debutto con questa maglia, raga Al debutto nel senso che è la prima partita Di Anzufati nel 2021 Roi del Barça Esce Neymar Comunque sanghissimo Ma ha fatto una grande partita Entra il giovane Spagnolo Anzufati Che proverà a timbrare anche lui il cartellino Dei margatori Per giro aperto Busquets 1-2 Anzufati Fallo su Anzufati E fallo questo L'engla è di testa Junior Firpo Anzu 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 Vai da giro Ma che come l'ha fatto Anzufati, raga Ma è incredibile Ma che come l'ha fatto Raga, ma no Incredibile Ha fatto un gol assurdo Ancora non ci... No, guardate, raga Mamma mia Mamma mia, raga Mamma mia Che gol Incredibile Entra l'Alan de Chimbabwe Mamma mia Anzufati, raga L'avevo detto Questo ragazzo Cioè, secondo me No, no, l'avevo detto, raga Comunque Oland Oland Mette la Birban Kerling 4-1 Appena entrato Il Barça Fa il poker All'Atletic Bilbao Mezzo al campo Gli avversari Un intercettato Sono ripartiti immediatamente Ci vorrebbe un altro gol, raga Una ripartenza perfetta 3 gol di vantaggio E risultato Beh, l'inerzia E la partita E cambiate Il loro favore Alla Soland In avanti Il difensore Lo spinge La difesa C'è da difesa Grande Arnold In avanti Spinto Oland Manità Del Barça La manità Del Barça Con la doppietta Del mostro Norvegese Erling Oland Ma che cosa ho fatto, raga Qui, Alessandra Arnold Non pensavo Qua c'è questo passaggio Comunque Gran gol Di Oland 5-1 La manità La manità Del Barça Raga La manità E' verità 5-1 Incredibile Che squadra Ragazzi Mi piace tanto Barcellona Mi piace tanto Sta carriera Fatevi sapere Nei commenti Se piace anche a voi Se vi sta piacendo Questa carriera 5-1 Comunque Siamo secondi Con il Real Madrid Primo in classifica Punteggio pieno E adesso abbiamo la partita Col PSG In Champions Raga Dobbiamo assolutamente Vincere Unica parola Vincere Poi ci sarà Coppa del Re Che sarà Non so che squadra Quella Comunque Andiamoci prima però A giocare questa partita Contro il PSG Vamos Ci vediamo direttamente In campo ragazzi Eccoci in campo ragazzi Siamo al Parco dei Principi Di Parigi Per questo Match fondamentale Sia per il PSG Che per il Barça Per raggiungere Il primo posto Intanto Prima possesso Palla per il PSG Allena avanti Versi i carti E sbaglia Attacca comunque Il Attacca il Barcellona Ma Per aver recuperato Subito dal PSG Tiro Palla Interessante Sprecata Sprecata Filippo Palla per Busquets Busquets Vede Neymar Uno due Si conoscono i due Palla per Firpo Si libera la ganda Filippo dentro Ah ragazzi Errore Qui volendo Poteva tirare Io non ho Poteva tirare io Preferito passarla Davanti Dove c'è la ingle di testa L'opportunità di ripartire Il Paris Saint Germain Sta tenendo alti Entrambi i terzini Voglio aumentare La spinta sulle fasce Limitando l'avanzata Degli esterni avversari Calcio di punizione Per il PSG Raga Eh sbaglia il passaggio Però la recuperano subito Raga Icardi No però Fallo Fallo Su Icardi Raga Quindi iniziamo Io direi Di non sbilaggiarci troppo Speriamo non segni Di Maria Da lì Esatto ragazzi Lo dì di Maria Che gol Raga E il Paris Saint Germain In questo In questo modo In questo momento Si trova in beta Alla classifica Dobbiamo provare subito A segnare Raga Bappe non è in forma Per ora Lo sta dimostrando Che non è in forma È più in forma Oland Però Ilpo pallava in avanti Recuperata Riesce il primo tempo ragazzi 1-0 Per il PSG Gol di Di Maria Su posizione E inizia adesso Il secondo tempo ragazzi Vamos Speriamo di vincere E di recuperare Soprattutto i gol Il gol Incredibile Bappe 1-1 Il Chiliano Non aveva fatto niente Di tutta la partita Ma ha trovato Un'occasione E l'ha sfruttata ragazzi 1-1 Che però forse ragazzi Quello su Sergio Roberto C'era qualche dubbio Forse era rigore ragazzi Forse forse era rigore Non lo so Si ricomincia da una situazione di parità Se segnare i marri ragazzi Sarebbe Ah comunque c'è Chris Mann Nel Paris Saint Germain Cazzi comunque ha segnato Un bappé ragazzi Non ho parlato perché Non lo so perché Non ho parlato ragazzi Però ero concentrato Talmente tanto Che non ho parlato Comunque gol di Mbappé Scusate scusate Lì Neymar Perché Ho detto Mbappé Comunque 2-1 L'abbiamo recuperata Hanno segnato i due ex Mbappé e Neymar Sergi Roberto Ragazzi Se segnate Sergi Roberto Pergi centrale Centrale ragazzi Non puoi pensieri il portiere Finisce qui ragazzi 2-1 Vinciamo La ribattiamo Siamo al 90esimo Goal di Neymar Neymar e Mbappé Dall'altra parte Anche di Maria Quindi siamo primi in classifica E ha 4 punti Sì sì ragazzi 4 punti E quindi ragazzi Adesso abbiamo la partita Col Villareal La Non lo so ragazzi Andiamoci a giocare E speriamo Di Vincere ragazzi Vamos Ci vediamo direttamente In campo ragazzi Ok ragazzi Eccoci in campo Siamo allo stadio Del Villareal E inizia adesso Villareal Barcellona ragazzi Speriamo di vincere Perché è molto importante Sia per noi Che per la nostra classifica Ragazzi Vamos Punizione subito Per Il Villareal Paco Alcacer Pareto su punizione Di testa Vappe verso Messi Messi da gira Verso Neymar Neymar è solo 1-0 E si toglie la maglia Ragazzi 1-0 Gol di Neymar Gran gol Ovviamente Grande azione Quella da parte di Messi Ragazzi Messi ha fatto due giocate Una migliore dell'altra Vappe Palla per Neymar Dentro Vappe 2-0 Il Chigliano Vappe Ma ragazzi Siamo in forma Per ora Però siamo In grande Grande forma Perdere palla Centrocampo E' molto rischioso Se sbagli Un passaggio Così Ma vabbè E' il terzo pallone Che sbaglia Il Villareale Ragazzi Il secondo Questa Abbiamo sbagliato La porta Picchia E' finisce qui il primo tempo Ragazzi 2-0 Per il Barça Contro il Villareale Grande spirito Di squadra Grande Grande Però stiamo vincendo Ma secondo me Vinceremo Ragazzi Non la voglio Vappe 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 3-0 Kilian Vappe Neymar 1-2 Neymar 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 Alla fine Nel finire Nel finire Metti fuori Pallare Satrale Per il Barça Ancora Non voglio Di giocare Ragazzi Anche se stanno Vincendo 4-0 Il Barcellona Tiro E' in avanti Neymar Per Vappe Vappe Attacca No Fallo E' ferita ragazzi Doppietta Neymar E' in doppia Di Vappe Grande vittoria E andiamo a vedere Ragazzi Cosa ha combinato Il Real Madrid Perché se ha perso Noi siamo i primi In classifica Vediamo Ragazzi Non credo Abbiamo perso Però Noi comunque Ci speriamo Infatti ha vinto Ragazzi Siamo sempre A meno 2 Dal primo posto E la prossima partita Abbiamo Non l'ho visto Bene il calendario Ma Ah Ecco La Coppa del Re Poi la Champions E poi un'altra Poi il campionato Ragazzi La Coppa del Re E' d'obbligo vincere Perché almeno Ci prendiamo il primo trofeo Della stagione Insomma Quindi ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate Tanti like Perché a 8 like Uscirà il quarto episodio Di questa grandissima serie Col Barca E niente Per questo video è tutto Bella ragazzi Per questo video è molto certo Frazione